Pronto? Come posso aiutarti? Sì, mi sono rimaste due stanze. Si va in scena. L'Artemis è un ospedale segreto per criminali. Tranquilli, penso a tutto io. Questo hotel si basa sulla fiducia e sulle regole. Lo vedi il badge? Sono un operatore sanitario. Stampa 3D completata. Ho una pistola. Nice. Si pronuncia nice. Mi riferivo al culo, non alla stanza. Questo è un bel problema. Apri il caccello. È contro le regole. Senza quelli che infrangano le regole, tu dove saresti? L'orario delle visite è finito. Sei data piena all'Artemis. Ehi, toglieresti le scarpe dal divano, per favore. E tu perché non te ne vai a fanculo? Mmmmm. Hmmmm. Grazie per la visione!